Ben trovati e benvenuti al punto sulle notizie realizzato da Vivi Centro Network, direttore Mario Vollonu. Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito il decreto di sequestro emesso nei confronti di Fabrizio Amore. Avente ad oggetto un ingente patrimonio del valore di oltre 40 milioni di euro. L'imprenditore romano. Attivo nel settore delle costruzioni. È stato coinvolto in varie vicende giudiziarie. Relative anche ad appalti pubblici, è arrestato, nel 2015, per associazione per delinquere, reati tributari, turbata libertà degli incanti e truffa ai danni dello Stato. Prendendo le mosse dall'esame degli atti dei diversi procedimenti penali. Gli specialisti del GICO del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma hanno individuato il metodo utilizzato. Per circa 20 anni. Da Amore per procurarsi profitti illeciti, poi reimpiegati in acquisizioni patrimoniali riferibili a società utilizzate come schermo giuridico e intestate a compiacenti prestanome.